è un video ah questo ah 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 ho visto un urro a spantano ma ho visto un display senza motivo li ho visto un dino lo rimpio tra un dino non è un video si avevo visto un cuore ha visto che abbiamo visto l'ho visto già è che Abba, abba, prendersi. Prendersi. Oh, ma? Prendersi. Prendersi.